per disabilitare i cookie su chrome clicca sui tre puntini in alto a destra e seleziona impostazioni poi scorri fino a fondo pagina clicca su avanzate e clicca su impostazione contenuti e qui finalmente troveremo l'opzione cookie ci clicco sopra e in corrispondenza di consenti ai siti di salvare e leggere i dati dei cookie porta l'interruttore sul spento comparirà la scritta bloccati poi puoi scegliere anche se bloccare i soli cookie di terze parti portando l'interruttore su acceso i cookie di terze parti sono cookie impostati da un sito web diverso da quello che stai attualmente visitando